Barzelletta, marito e moglie, Burini, un scemo in una lira, lui era rimasto senza lavoro, pure lei, allora lui se ne esce e dice «Marì, è qui te ti inventa qualcosa, o vai su un marciapiede a batte, se no qui se ne batte il chiodo, ma chi l'ha mai fatto, è scemo? Ma come chi l'ha mai fatto, non c'è se non c'è, ma che tempo dovrebbe imparare, dagli, dagli su, va sul marciapiede, ma io c'ho paura, sta zitta, io sto sempre lì con te, mi metto dietro a nuce spuglio». Fanno così, lei va sul marciapiede e lui se ne sconne dietro a nuce spuglio, a un certo punto si ferma una macchina. Dice «Senti, quanto vuoi?» Questa è inesperta, e se gira verso il marito «Apiede, questo mi ha detto quanto voglio, che glielo ti dì?» «Dì, dì 30 euro». «Voglio 30 euro». «Ah, mannaggia, io c'ho solo 5 euro». «Apiede, questo c'ho solo 5 euro». «Eh sì, e dì per 5 euro io lo puoi solo vedere». «Eh, lo so, bello mio, ma tu c'hai solo 5 euro, io te lo posso solo vedere con 5 euro». «Eh vabbè, ma va bene». Dice sì, dì, e da 5 euro, se sbottona, se ti raggi i pantaloni, c'hai una mazza di 50 centimetri. Questo appena vede, si gira verso il marito. «Apiede, ma non è che ci avresti tante volte 25 euro da prestaglie?» «Apiede, ma non è che ci avresti tante volte 25 euro da prestaglie?»